Tre minuti dedicati qua a Ovada, ma per una bella celebrazione. 40 anni del centro, buongiorno a voi ragasole. Cosa celebriamo? 40 anni di vita del centro amicizia, Don Rino Ottonello. Ragazzi sono stati diplomati, persino, visto che ha dato il diploma. E poi a questo tavolo abbiamo anche, guardate il ritorno di Don Giorgio. Ha ritornato qui a questa festa? Grazie, sì, sono venuto volentieri perché comunque abbiamo trascorso tanti momenti insieme con il centro amicizia, con queste persone, con Marina, ecco, momenti belli, ce ne sono stati tanti proprio con lo scopo di aggregare, di far stare insieme la gente, di combattere la solitudine soprattutto di chi a un certo punto della vita rimane un po' più solo. Ecco, lo scopo è anche questo. Bello, bello. Questo è anche Don Maurizio che abbiamo qua. Buongiorno Don Maurizio. Ho sentito il discorso, bello che dice, dobbiamo premiare anche lei perché ci sta dietro. Ma sì, perché sono state delle persone che in questi anni hanno fatto in maniera che altre persone fossero contenti di stare insieme. Questo centro amicizia anni fa è stato dedicato a Don Rino Tonello, cioè che è stato proprio il motore iniziale, però poi la cosa bella dell'amicizia è che altri raccolgono il testimone, è una maniera per raccogliere altre persone ancora, la contentezza che questi spazi, oggi siamo qui nel Salone San Paolo, il Salone della famiglia cristiana in Ovada, cioè luoghi che possono essere il più aperti e quindi questa parola amicizia è il cardine su cui tutto attorno gira. E abbiamo Lucia, ciao Lucia. Ciao. Cosa ti sei preparato oggi, cosa ci fai vedere? Vi faccio vedere l'intervista che mi ha fatto Lorenzo per il teatro e d'altra cosa vuoi che ti faccio vedere? Lucia ama il teatro, poi me la prendo io a teatro. E poi abbiamo Carla, Carla. Carla è qui che aspetta la torta perché io non mi posso mangiare. Mangiano sempre, mangiano sempre. Va bene ragazzi, con voi ci vediamo i prossimi tre minuti e guardate, sta arrivando la torta adesso, la stanno distribuendo ai tavoli, speriamo che sia tutta una bella giornata ma soprattutto un stare insieme in allegria e in serenità. Ci vediamo i prossimi tre minuti.